Musica Buonasera amici del tubo e benvenuti a questo breve log di Shinra Interna di febbraio Il motivo per cui ho realizzato questo log è per il fatto che posso finalmente annunciarvi Che ho terminato la registrazione di Shadow of Arts Il titolo che volevo registrare da un po' di tempo è che dovrebbe essere in teoria l'inizio della trilogia Che dovrei con calma riuscire a registrare, montare e caricare su questo canale nel corso del 2012 spero nel caso avessi il tempo Come vi avevo già spiegato il mio primo desiderio era quello di registrare Kudelka per Playstation 1 Non si è verificato per il semplice fatto che non sono riuscito a giocarci per questioni di frustrazione personale Non tutti i giochi della 1 sono dei capolavori come noi amiamo ricordare ogni tanto Kudelka ha una storia molto interessante Più che altro è interessante ora dato che è stato il punto di partenza per il team Sacknot Per realizzare la trilogia di Shadow of Arts Mi piacerebbe se qualcuno lo caricasse anche perché ha avuto questa piccola particolarità È un gioco che esiste solo se credi in lui È talmente raro che devi avere fede per riuscire a giocare a Kudelka È stato tradotto e doppiato in italiano a dire la verità nemmeno troppo male È spaventoso come esistono dei giochi come Kudelka Che così a muzzo vengono tradotti e doppiati Mentre, beh non so, deve uscire un Final Fantasy 7 Ma sì, ma chi se ne frega tanto non piacerà a nessuno È vero perché so che la traduzione spesso e volentieri non tiene conto dell'importanza del gioco Si fa dove si riesce a farla O in base al team che finanzia Cioè io queste cose non le so Sta di fatto che la realtà dei fatti mi ha sempre abbastanza sorpreso Perché Kudelka è stato doppiato in italiano È addirittura doppiato, è il doppiaggio che mi fa paura Ehm... In questo momento manca Non so se riuscirò a riprendere Kudelka in futuro per riuscire a caricarlo qui Credo che possiate trovarlo in inglese su Youtube Perché ha un discreto numero di aficionados a causa di Shadowfarts Covenant Immagino che è stato il capitolo di punta della trilogia O che in realtà sarebbe una tetralogia del 3 più 1 del team Sacknot Io ho registrato Shadowfarts Il numero 1 uscito nel 2001 Ehm... Che non è stato a dire la verità Neanche lui è un grande successo Qui è uscito ma non è stato tradotto in nessun modo Cosa che non è stata realizzata nemmeno per gli altri due capitoli Per Playstation 2 Nemmeno per Covenant E in questo caso stando a quello che si dice Io non l'ho ancora provato personalmente Ma inizierò in questi giorni È stata un'ingiustizia tragica Perché a quanto pare è uno di quei... Di quegli splendidi ma poco famosi Giochi di ruolo usciti sulla Playstation 2 Ne sono usciti parecchi Più di quelli che sono usciti ora sulla Playstation 3 Perché purtroppo il genere non vive un momento di grande creatività Purtroppo E sperando che si riprenda All'epoca della 1 ne sono stati realizzati molti Però quelli sono... Come dire... Li conosciamo C'è una discreta... C'è un discreto numero di giochi di ruolo della 1 Che sono stati purtroppo dimenticati Da molta gente In chiaro è una cosa personale Sulla 2 ce ne sono a dir la verità forse ancora di più Tra il fatto che non tutti sono meritevoli Tra il fatto che alcuni sono stati degli esperimenti E non tutti sono andati bene Molti giochi di ruolo della Playstation 2 Sono stati largamente ignorati Shadowfarts è uno di questi Soprattutto il primo Perché di Covenant c'è molta più cultura dietro Bene... E' finito in questi giorni Posso dirvi che il montaggio finale è di 16 ore Quindi questo lo porterebbe a una lunghezza Più o meno pari a Grandia E' stato molto interessante E' stato un bel inizio credo Perché secondo me assumerà un maggiore valore Ora che inizierò a registrare Covenant Ma ciononostante è stato un gioco di ruolo Molto originale Nonostante la sua struttura classica E' un gioco di ruolo Dalla struttura molto classica Ma con una voglia di stupire Che spesso non si vede Non è scritto in maniera geniale Scritto bene secondo me Ma non è scritto in maniera geniale Quindi non posso presentarvelo Come il nuovo Chrono Cross O come il nuovo Xeno Gears O come il nuovo Final Fantasy Se Sakaguchi fosse ancora Nel mondo dei realizzatori di videogiochi Si c'è ma non è più come prima Quindi E' soltanto un gioco di ruolo onesto e ben fatto Degno di essere visto secondo me Purtroppo non ho il tempo di tradurlo Non ho il tempo di realizzare dei sottotitoli Come per Grandia Perché come avete visto Ora che ho ripreso siamo ancora in alto mare Ci ho messo un anno a tradurre Grandia Quindi non penso che mi metterò a farlo Ora che c'è Do Fars Mi appello a chiunque Conosca l'inglese Per fortuna non siamo pochi a questo mondo E anche se mi riserverò il diritto Vabbè è il mio canale Posso anche farlo Il diritto di inserire Un piccolo riassunto In ogni parte che caricherò In modo tale che possa essere fruibile In modo che vi basti andare Semplicemente nella pagina della descrizione Del video E leggere quello che sta accadendo Nel video che magari non riuscite a comprendere Non è il massimo seguire un bel gioco di ruolo Se non riuscite a capire ogni dettaglio Non che io creda di aver capito ogni dettaglio Però diciamo avrò tempo anche di rivederlo adesso Se avete grandi difficoltà Non so cosa dirvi Oh beh l'inglese va imparato C'è poco da dire Poco da fare Quindi Il progetto è ancora in piedi Riguardo ai prossimi capitoli Shadow Farts Sicuro Cioè il secondo Shadow Farts Covenant Sicuro che va fatto E diciamo che ho registrato il primo apposta Per registrare il secondo Per questioni di completezza Non so se riuscirò a passare avanti con Kudelka Ma il secondo Covenant è sicuro che verrà fatto Prima o poi ci vorrà il suo tempo Riguardo al terzo The New World C'è qualche dubbio in più Perché E' stato un passo indietro E credo che Abbia contribuito a chiudere malamente La serie di Shadow Farts Stando a quel che si dice Io non l'ho ancora provato Perciò Mi astengo da disquisizioni personali Un'altra cosa che vorrei fare Riguardo al Shadow Farts E' un piccolo video introduttivo Una sorta di recensione Ma io non sono in grado di farle Quindi più che altro Una serie di pareri personali Inseriti in un video A causa del fatto Che non è un titolo famoso Quindi non è un titolo Che si presenta da solo Come se o ricaricassi Final Fantasy X O caricassi Metal Gear O qualcos'altro Non è un titolo che si presenta da solo C'è bisogno di un pochino di storia Del videogame Immagino in questo caso Se non altro perché Bisogna andare a ravanare Nel caso di Shadow Farts Quindi l'importante è che è stato realizzato E inizierò a caricarlo Dopo aver finito La nuova versione di Resident Evil 2 Ci vorrà ancora un po' Adesso che so di avere tanto materiale Accelererò Si può dire Accelererò Si Accelererò Ma è meglio non rischiare Aumenterò il ritmo Del caricamento di Resident Evil 2 E cercherò di concluderlo più in fretta In modo tale da evitare Che il povero Shadow Farts Deba sgomitare Sgomitare nel mio territorio Vuol dire anche vomitare Beh insomma Per evitare che Shadow Farts Rimanga troppo chiuso Nella cartella del computer E possa finalmente Dopo tanto lavoro Avere la sua dose di celebrità Chissà Chissà quanta Comunque Fra una missione di Mass Effect 2 E un'altra Ci sono alcune piccole novità Come purtroppo Il fatto che È caduta la spada di Damocle Di Youtube E si cambia Il layout grafico Dei canali Come molti Io mi unisco Anche senza aver voglia Proprio di protestare direttamente Mi unisco Alla protesta Al coro di protesta Che si è elevato Contro la bruttezza Di questi nuovi layout Io non ho avuto ancora Il piacere Se sarà un piacere Di spulciarli E vedere bene Nei dettagli Come sono stati strutturati Il fatto sta Che Già a caldo Non mi piacciono Sarà che c'è sempre Una sorta di paura A cambiare Diciamo che Ogni volta che Youtube Ha introdotto Una grande novità C'è sempre stata Una pletora Di contestanti Che con calma Poi dopo un mesetto Si sono abituati Alla nuova realtà E hanno proceduto Come niente fosse Anzi Sono arrivati poi Al punto di dire Che le nuove modifiche Sono state comunque Migliori di quello Che era prima Qui la vedo Un pochino più difficile Perché effettivamente Questo nuovo layout È duro da digerire Non si può cambiare Sito di video Per il fatto che Youtube Ha la sua schiera Di visitatori Che non trovi Dalle altre parti E io Faccio Svolgo Questo piccolo mestiere Questo hobby Per avere anche Delle visualizzazioni Dei commenti Perché la soddisfazione È quella Quindi non ho mai avuto Il pensiero Di lasciare Youtube Resisterò Resisterò E vi dico Che cambierò Entro pochissimi giorni Il layout del canale Non aspetterò Il 7 marzo Tanto di qualche Di una morte Bisogna pure morire Tanto vale che avvenga In fretta In modo tale Da preparare qualcosina Purtroppo È una vera tragedia Che non sia personalizzabile Come è personalizzabile Questo layout qui Che abbiamo usato Per più di un anno Se non di più due anni E È un peccato E spero che magari In futuro Si possano realizzare Delle modifiche Per rendere i canali Un pochino più liberi Perché altrimenti Diventa tutto Troppo standardizzato E Veramente È negativa Questa cosa E non invoglia Non invoglia Né il Youtuber A realizzare A curare Il proprio canale meglio E non aiuta Credo neanche Il visitatore O lo spettatore A ricordarsi bene I canali degli utenti Perché comunque Il colpo d'occhio Aveva Il suo Grado di importanza Sì Una piccola cosa Siccome nell'ultimo commento Di Final Fantasy 8 Spero di riuscire a prepararne uno Il più presto possibile Dato che ora Un pochino più di tempo libero Ce l'ho Vi ho lasciato senza contest E se volete Scervellarvi un pochino In attesa del nuovo contest Perché non voglio Che voi vi riposiate troppo Perché siete gente Come me Siete gente d'azione E quindi vi Vi introduco Qui Un piccolo nuovo contest E vi chiedo Con garbo ed educazione Cosa c'è nel pacco Ovviamente Non nel mio pacco Ma Nel pacco Che mi è arrivato A casa Evitiamo doppi sensi In questo caso Anche perché vi ho preparato Una foto Ce ne sarebbe anche un'altra Dove magari Il confronto con la mia mano Vi permetterà di comprendere La grandezza Effettiva Di questo pacco Non è un pacco bomba Ve lo dico subito E non è arrivato a sorpresa Nel senso che Era premeditato Ho pagato del denaro Per ricevere questo oggetto Potete immaginare Già il tipo di oggetto In base alla dimensione Del pacco E al fatto che Ve lo dico già adesso Che è destinato A questo canale Quindi Sì perché non Non usare la parola giusta È un videogioco L'avete già Entro Così no perché Se no Non venite a dire Che ho comprato Un panetto di burro Perché non sono il tipo È di sicuro un videogioco Ma dovete indovinare quale Purtroppo non potete fare Toc toc sulla scatola Non potete auscultarlo Non potete passare le raggi X Vi dico solo che È un gioco Che ha Anzi Vi dico solo che Io non sono il tipo Che compra qualsiasi cosa Su internet Quindi se devo comprare Qualcosa su internet Deve essere una cosa Che non posso trovare Negli altri negozi A meno che Non costi dannatamente poco Su internet Cosa che mi è già successo Ma Beh Vi lascio questo piccolo dubbio Non vi dico altro Perché sapete già Che è un videogioco Quindi Questione di peso Potrei dirvi il prezzo Ma il prezzo Magari ve lo dirò dopo Se non riuscirete a indovinarlo Fino al nuovo commento Di Final Fantasy VIII Ok Era poca roba Quindi Credo che Potremmo anche Salutarci qua Vi rimando ai soliti Siti Ai soliti canali Ai soliti siti Collegati Al mio account Vi mando Ai blog Di Atavarni89 E del parco giochi Di Ifriti Vi rimango Inventiamo una nuova lingua In questo momento Anche prendere fiato Alla sua importanza Vi rimando Al canale Di Gods of Games Che purtroppo Ha avuto un piccolo problema Di copyright Per il fatto che A causa A quanto pare Di una segnalazione Di copyright Da parte di qualcuno Io non ho capito bene La questione Perché non ho avuto Tempo di informarmi bene Ci è stato tolto Il diritto Di caricare video Superiore ai 15 minuti E questa è una grave Mancanza Perché avevamo proprio L'intenzione Di caricare Parti di gioco Molto ampi Anch'io ho iniziato A caricare Xenogears Sul canale Di Gods of Games E avevo intenzione O ancora intenzione Di caricarlo A tocchi di 2 ore Non più video di 15 minuti Sia per comodità mia Che per Non so se è per comodità vostra Perché guardare 2 ore Di Xenogears intero Vi fa diventare pazzi Però potete interromperlo Quindi è una vostra libertà Ora sono stati rimossi I video Che avevano causato Quel problema Anche se Alcuni progetti Sono rimasti quindi incompleti Sono stati aperti Altri canali Come The Patriots Per caricare I video Che non riuscirete a trovare Sul Gods of Games Sperando che vada bene In questo modo Vi invito A fornire Una sorta di supporto Perché ci serve sempre Sia a me Che a loro Che a tutto il gruppo Dei Gods of Games E a tutti i playthrough Italiani Dato che non è un lavoro Così facile come si pensa Io vabbè Ho tutti i miei sistemi Ognuno ha i suoi C'è chi usa schede di acquisizione Io uso il DVD recorder E tutto il resto Ma resta il fatto Che serve Una discreta dose Di pazienza E passione Per finire i progetti Dei videogiochi Sono contento Sono contento che io sia ancora qui Dopo tre anni Di più No Ho quattro Stiamo per fare Tre anni e mezzo Tre anni e mezzo Dopo Tre anni e mezzo Di lavoro Sono ancora qui E sono molto soddisfatto E chiaramente Vi faccio un ringraziamento A tutti E Ah sì Giocate a To The Moon Perché Insomma Non fissatevi sempre Sulle nuove cose Da 70 euro Cioè ad esempio I due comandamenti Sono questi Non comprate Final Fantasy 13 2 Come ho fatto io Non compratelo Non esiste Final Fantasy 13 2 E un'invenzione Comprate Anzi Se volete comprarlo Fate una gran bella cosa Perché supportate Degli artisti veri Probabilmente Cercate però Assolutamente Di giocare a To The Moon Una vera lezione Su non come vadano Fatti i videogiochi Perché non è un gioco Esente da difetti Ma come vadano Scritti i videogiochi Se tutti i videogiochi Venissero scritti Con la passione Di To The Moon Io L'ho appena iniziato Ma diciamo che Si è già capito E poi ho avuto Molti pareri Positivi Vi far sapere Quando l'avrò finito Ma credo che Il mio parere Non cambierà Una vera lezione Su come si scrivono I videogiochi Se tutti i videogiochi Di nuova generazione Venissero scritti Non dico con lo stesso sistema Ma con la stessa passione Io ma credo Come anche molti altri Nostalgici Che stanno Iniziando a diventare tanti Soprattutto con la morte La morte artistica Di molte serie Videoludiche A cui noi Tenevamo tanto Se si potesse avere O comunque utilizzare Come ispirazione L'ottimo esempio Di To The Moon Diciamo che le cose Migliorerebbero E si invoglierebbe Anche di più A tornare sui buoni Vecchi videogiochi Fatti bene Quelli che ti appassionano E non ti fanno solo Sfogare il nervosismo Che ti viene alle mani Quando la vita Diventa troppo frustrante No? Bene Detto questo Vi saluto Vedrete presto Si spera Un nuovo commento Di Final Fantasy 8 E state attenti State a court E guardate State attenti A quando finirà Resident Evil 2 Perché l'ultimo video Di Resident Evil 2 Vorrà anche dire L'inizio Di Shadowfarts Arrivederci a tutti Grazie per il supporto E ci sentiamo presto